Ben ritrovati con l'appuntamento settimanale dedicato alla nutrizione e al benessere, curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che oggi ci parlerà della quinoa, uno pseudo cereale, ecco perché non si può definire proprio cereale. Allora, quali sono le proprietà e come si consume in cucina? Sì, allora, dicevi giustamente tu, è uno pseudo cereale, però viene considerato quasi come un cereale a tutti gli effetti, soprattutto perché dai suoi semi della quinoa si ricava comunque una farina che è ricca di amido, quindi paragonabile un po' a quella degli altri cereali. Anche se in realtà la quinoa è una pianta appartenente alla famiglia delle chenopodiacee, cioè la stessa in effetti degli spinaci, delle biete, delle barbabietole. 100 grammi apportano all'incirca 370 calorie, è ricco di sali minerali, soprattutto magnesio, ferro, manganese e vitamine del gruppo B e vitamina C. È un alimento quindi comunque abbastanza calorico, è ricco di carboidrati complessi, ma è anche ricco di acidi grassi insaturi e di proteine vegetali. Ecco, queste ultime sono per esempio, ne fanno della quinoa, un ottimo alimento per chi segue per esempio un'alimentazione vegetariana o vegana, quindi per raggiungere il giusto apporto di proteine. È ricco di acidi grassi insaturi e quindi diciamo aiuta la salute cardiovascolare, riducendo il rischio di aterosclerosi. È ricco di sostanze antiossidanti, in particolare fravonoidi come la quercitina e quindi contrasta i radicali liberi e quindi aiuta a prevenire tutta una serie di patologie e l'invecchiamento. È molto ricca anche di fibre, quindi aiuta il transito intestinale, riduce l'assorbimento intestinale di colesterolo e quindi aiuta anche chi è a dieta aumentando il senso di sazietà. Ha un basso indice glicemico, quindi a patto di saperlo inserire comunque nel carico glicemico della giornata può essere consumato anche dai diabetici. Poi contiene una sostanza chiamata riboflavina, la quale è oggetto di studio perché sembra che aiuta a prevenire delle forme di emicrania, oltre anche a migliorare quelle che sono le funzioni cognitive. E come lo prepariamo in cucina? Sì, allora lo possiamo utilizzare soprattutto in abbinamento ad altri cereali oppure con delle verdure o dei legumi, quindi dei piatti unici soprattutto. Però può essere utilizzata anche per preparare ad esempio dei burger vegetali oppure sfruttando la farina per fare dei prodotti da forno oppure dei dolci. Comunque è importante sempre lavarla bene sotto acqua corrente, questo per eliminare delle ultime tracce che possono essere ancora presenti di saponine che sono potenzialmente dannose per l'uomo. Ci sono anche controindicazioni per chi ne fa magari un consumo eccessivo? Sì, allora ci possono essere ovviamente delle allergie, quindi i soggetti allergici non lo possono consumare. Contiene degli ossalati che contrasta l'assorbimento del calcio per cui è sconsigliato per chi soffre ad esempio di osteoporosi ed è sconsigliato anche per chi ha dei calcoli renali. Grazie dottore, grazie anche per i preziosi consigli. L'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna come di consueto alla prossima settimana. Grazie.